...gli scenari economici dei prossimi anni, quale opportunità. Veniamo da una sessione mattutina che ha ben inquadrato qual è la situazione in questo momento su questo bossante che potremmo sintetizzare in questo modo incertezza sulle prospettive economiche globali in un mondo, quello dell'investimento previdenziale che invece chiede certezze, ha bisogno di certezze, ha bisogno di risultati, ha bisogno di consolidare questi risultati e di mantenerli nel tempo. Come coniugare questa richiesta pressante, anzi questa esigenza in un mondo che invece in questo momento è tutto tranne che certo presenta tutt'altro che certezza e quello che vedremo di discutere questo pomeriggio con la partecipazione a questa tavola rotonda. Innanzitutto il professor Polillo, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può venire, è bloccato in commissione, si scusa, ma non può intervenire i nostri lavori. Invece una tavola rotonda che avrà alcuni importanti protagonisti del settore a livello internazionale, come Kevin Daly, responsabile dei paesi emergenti di Aberdeen Asset Management, come Michael Karpik, capo degli investimenti di EMEA. e poi avremo Angela Bracci, esperta in previdenza dell'ABI, in rappresentanza dell'ABI, il dottor Sabatini non è potuto intervenire. E infine chiuderà Antonio Finocchiaro, che è il presidente di Covip. Io vi do una certezza, anche perché le sessioni pomeridiane, sul finire, tendono a vedere diradata la presenza, e la certezza è che noi non termineremo molto dopo le quattro, quindi quattro e mezzo al massimo, quindi tenetene conto perché la parte migliore sta nel finale, come si dice. Grazie a tutti.